ben ritrovati sono tornato adesso dall'estero scusatemi per l'assenza per i pochi video ma ricominceremo adesso alla grande ora che sono tornato faremo oggi un'analisi di tutte le novità che ci sono stati in questi giorni in cui io non ci sono stato di hamster combat partendo dalla prima non basatevi completamente solo su una tipologia di possibilità di profitto il mondo delle cripto è enorme e la via migliore da intraprendere è quella di imparare il più possibile se lo si vuole ovviamente e cercare di ottenere fonti di guadagno da diverse metodologie è per questo che spesso vi parlo anche di altri progetti come gli airdrop come i launchpool come launchpad se volete un giorno vi faccio proprio un video dedicato sulla loro differenza anche se per molti sarà chiaro se vi dedicate solo a una tipologia se quella tipologia va male beh avrete buttato solo tempo quindi prima di iniziare con l'analisi e con le mie opinioni di tutto quello che sta succedendo su hamster combat voglio farti una precisazione ho sbloccato solo fino al 29 fino alle 7 di pomeriggio del 29 luglio la possibilità per tutte le persone che si sono iscritte con il mio link su buy bit di ottenere gratuitamente in anteprima cioè prima del listing il valore di 10 dollari di layer 3 ovvero il corrispettivo di 10 dollari di layer 3 ma pre listing una volta che si arriva al listing che sarà a mezzogiorno il 30 a mezzogiorno il prezzo sale vertiginosamente dal 5 per al 15 per l'ultimo è stato un 15 per io purtroppo era all'estero e non vi ho potuto aiutare neanche prendere questa offerta da buy bit perché questa è un'esclusiva che vi sto dando io quindi le persone che ancora non si sono iscritte su buy bit e vogliono avere questa opportunità e le persone che già si si sono iscritte ma ancora non hanno fatto nessun tipo di versamento sappiate che fino a un massimo del 29 ovvero tra due giorni alle 7 di pomeriggio chi si iscriverà con il mio link o se già iscritto e farà il primo versamento di almeno 100 dollari anche gli usdt quello che volete e non li dovete spendere solo versamento riceveranno queste persone 10 dollari in token layer 3 perché vi sto dicendo che è importante perché c'è una grandissima possibilità che nel momento in cui verrà poi listato su buy bit voi quello che farete sarà quello di andare su trade spot cercherete layer 3 usdt e vedrete che il grafico soprattutto nei primi minuti salirà tantissimo e lì potrete vendere quei 10 dollari che magari saranno diventati 100 o 150 o anche 50 ma sono dollari gratis e voi intanto avete depositato 200 dollari che se volete vi potete togliere torniamo a noi ci sono state molte 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 modifiche le sappiamo bene le avrete viste tutte quante sono state aggiunte nuove sezioni è stata aggiunta alla chiave con un minigame che veramente ci ha mandato fuori di testa poi figuratevi io stavo all'estero quindi cioè stavo provando a fare questo minigame a riprendere come sbloccarlo o meno condividerlo sul gruppo telegram infatti se non ci siete ancora entrate sul gruppo telegram perché lì condividiamo tutto quanto un delirio questo minigame per ottenere delle chiavi queste chiavi a cosa servono io un'idea me la sarei fatta e diciamo che secondo me queste chiavi serviranno per aprire qualcosa ovviamente tipo delle box o delle porte dove magari possiamo prendere dei bonus dei token bonus potremmo prendere oppure la possibilità di vincere qualcosa quindi sarebbe meglio accumularle il più possibile una cosa nuova l'idea del minigame mi è abbastanza piaciuta anche se molto difficile però alla fine ci sta tempo troppo breve 30 secondi è troppo alto il cooldown secondo me è una cosa punitiva che non ha troppo senso prima di tutto siamo al 27 e del dell'air drop non se ne parla diciamo che io già vi avevo anticipato il fatto che probabilmente non ce l'avrebbero fatta a fare l'air drop per luglio non è ancora detto mancano un po di giorni però insomma era una cosa che vi ho detto già a giugno forse agli inizi giugno che c'era la possibilità che sarebbe slittata la cosa che preoccupa un pochino è che non c'è comunicazione cioè vi faccio un esempio katizen che tra i tanti avrà messo in premarket il suo code il suo token kati scusate di continuo ti aggiorna su tutto ti dice tutto quello che sta succedendo i soldi come come li sta spendendo bla 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 hamster combat non si sa niente white paper ancora non si sa niente c'è un'altra cosa che non mi piace tantissimo su telegram ma posso capirla che non c'è la possibilità di mettere le reazioni negative ci sta per evitare tossicità al tempo stesso la cosa che un po mi fa sorridere che l'annuncio di scaricare un'altra app e adesso ne parliamo scaricare un'altra app e giocarci per ottenere molteplici chiavi invece che fare solo il minigame beh questo annuncio è stato dato solo su telegram dove le persone non possono mettere reazioni negative mentre su non so twitter dove potresti dire ragazzi ma guardate che state facendo una schifezza e non c'è e quindi non puoi reagire su quella cosa magari mi sto sbagliando io eh regà molto spesso mi sbaglio io sono sicuro sono sicuro che le persone sono incavolate nere perché parliamoci chiaro allora io per prendere una chiave devo fare un minigame in app cosa giustissima adesso ne posso prendere addirittura 4 al giorno l'importante è che gioco su un gioco di merda perché è un gioco di merda di non so chi e sono quei tipici giochi dove ti spammano 20 pubblicità per ogni game che devi fare e ne devi fare più di uno per prendere le chiavi non ti obbliga nessuno è vero ma fa schifo sta cosa raga ma fa schifo ma non tanto perché hamster combat vuole guadagnare va benissimo che voglia guadagnare ci mancherebbe ma non ha proprio un senso logico perché allora io che lo gioco a fare il minigame che mi devo scervellare e invece vado in giro con la bicicletta e mi guardo 30 pubblicità a partita e allora va bene sei contento e mi dai 4 chiavi invece che una cioè mettimelo in gioco con delle pubblicità che mi permette di avere dei bonus su hamster combat per carità collaborazione ma qui stiamo parlando di un'app di quelle che che le conosciamo tutte di quelle pubblicità che fanno schifo che ti escono 30 secondi di pubblicità di giochi che poi non sono quei giochi la bicicletta è ovviamente una scusante e infatti adesso già 100 milioni di download questa app veramente brutta e ce ne sono centinaia di app del genere ma che cosa a che fare questo con hamster combat che cosa c'entra questo con hamster combat poi ripeto magari come col massaggiatore eccetera no mi ha fatto storcere il naso ho sbagliato perché c'è qualcuno che lo utilizza per fare i tap che è sempre vabbè foglia perché c'è l'autotap volendo però raga cioè è proprio la qualità del del gioco dove dobbiamo andare che fa schifo cioè neanche mi posso opporre perché se mi oppongo a giocare a questo schifo del gioco che fa veramente troppo schifo ed è solo pubblicità perdo la possibilità di prendere tutte queste chiavi che magari non serviranno a niente però se servono quindi io adesso mi devo ingozzare di sto schifo lo ripeto di app per ottenere queste chiavi non mi non mi costringe nessuno questo è chiaro però è veramente e la cosa frustrante è che io sono sicuro che come me lo stanno pensando tutti ma non possiamo dire niente ad hamster combat questo è un grosso difetto e lo sapevamo già da prima però prima ogni cosa che facevano ad esempio anche le skin le skin sono un'aggiunta molto interessante perché chi lo sa magari un giorno saranno nft tutto quello che stavano facendo era giusto ma perché adesso è per soldi è chiaro pensate ai soldi che fanno adesso 100 milioni di installazioni per ogni 100 milioni di persone ogni persona si deve vedere non lo so mille pubblicità nell'arco di neanche troppo pensate ai soldi che fanno e poi non so se l'app è la loro o è una collaborazione si fanno pagare però è veramente scadente scadente cioè se tu hai un progetto valido non ti appoggia a una cosa così scadente c'è veramente monnezza la monnezza quindi ragazzi l'airdrop ancora non c'è ma quello non è che mi preoccupa più di tanto mi sta preoccupando tanto la strada che sta prendendo hamster combat veramente veramente tanto deluso ripeto mini game mi andava benissimo questa collaborazione questo non so che cosa con quest'app orrenda che non ha nessun senso logico se non spammarti di continuo pubblicità in faccia onestamente mi ha fatto iniziare a dubitare tanto tanto del della capacità di questi di questo team perché è quasi la trovo quasi disgustosa qualcosa non so come spiegarvi cioè non è che stanno prendendo un'app e dice oh ammazza questa app è una figata è legata al mondo di hamster combat stanno creando una collab quindi si sta espandendo una rete no no è proprio lo schifo tu scarichi quella cosa devi subirti centinaia di pubblicità per riscattare un codice veramente ragazzi da questo punto di vista veramente disgustato non so che altro dire la cosa che vi posso dire è però ripeto che intanto muoviamoci in altro sicuramente inizio settimana vi faccio un video su altre applicazioni che hanno sicuramente meno successo di hamster combat che continuerò a seguire ovviamente ma che hanno dietro dei team conosciuti e più credibili e altre metodologie di guadagno ragazzi perché qui io non lo so questa star combat dove vuole andare magari mi sto sbagliando me lo auguro io sono il primo che ha creduto e crede ancora in hamster combat però questo è stato veramente un passo passo falso veramente nella mail ma è finito questo passo fatemi sapere voi che cosa ne pensate ciao grandissimi